ciao a tutti oggi proviamo fare un piccolo giochino insieme una delle domande che mi arriva più spesso è bene io devo decidere su quale piattaforma andare a lavorare mi consigli di restare su adobe o di andare direttamente su da vinci resolve oggi proverò a dare una risposta del tutto soggettiva basata unicamente sulla mia esperienza io faccio docenza su premier pro e da after effects dal 2005 circa dal 2005 sono certificato su premier pro e dal 2009 su after effects e da qualche anno appunto mi occupo anche di formazione su da vinci resolve ad oggi quotidianamente per diverse ore al giorno lo switcho continuamente tra premier pro after effects audition e da vinci resolve pertanto mi sono fatto un po un'idea di quelli che sono i punti di forza di una o dell'altra piattaforma senza basarmi su un'analisi tecnica in merito al confronto tra le piattaforme questa chiacchierata si baserà unicamente su considerazioni soggettive quindi mie personali a tal proposito ti anticipo che tra breve partiranno i corsi in aula virtuale in collaborazione con fotocorsi tenuti dal sottoscritto durante il weekend e sono dedicati a premier pro ad after effects e a da vinci resolve a vari livelli quando saranno pubblicati tutti i dettagli comprese le date e i costi li pubblicherò sia all'interno del canale sia all'interno della pagina facebook di impara da vinci resolve venendo alla chiacchierata di oggi faccio una premessa io parlerò della piattaforma adobe dal punto di vista video quindi i software che tirerò in ballo sono quelli che possono essere comparati con le analoghe page all'interno di da vinci resolve quindi sto parlando di premier pro after effects audition e anche media encoder però una sorta di pagellone è diviso per varie categorie così vi potete anche fare un'idea di quelli che sono realmente secondo me i punti di forza di una o dell'altra quindi partiamo subito dalla gestione dall'importazione dei media quindi abbiamo la media page di da vinci resolve comparata con premier pro quindi con tutto il suo pannello progetto da questo punto di vista premier pro è una vera macchina schiacciassassi molto difficile che lui non riconosca un formato un codec in importazione veramente molto difficile su da vinci resolve questi problemi li ho quotidianamente quindi da vinci resolve è un po più noioso nell'importazione corretta dei file all'interno del media pool il secondo aspetto che andiamo ad analizzare il project manager e qui le cose si ribaltano la gestione dei progetti all'interno di da vinci resolve è davvero molto efficiente anche e soprattutto per merito del database della presenza del database che mi rende la gestione dell'archiving dei backup e della sicurezza del singolo progetto molto più efficiente rispetto a quello che si può fare sul singolo file omnicomprensivo di premier pro di after effects eccetera veniamo proprio alla centralina di montaggio punto il punto focale per ogni videomaker ossia la timeline dove andrò a montare i miei video quindi parliamo delle funzionalità di editing la timeline con i suoi tool di premier pro vanta anni di esperienza premier pro nasce per fare montaggio si è sempre migliorato versione dopo versione mentre la timeline di da vinci resolve sia sulla edit sia sulla cat page è nettamente più giovane rispetto a premier pro e ha ancora bisogno di qualche miglioria per essere pienamente performante andiamo a parlare di effettistica di motion graphics di 3d e qui compariamo fusion con after effects e qui le differenze sono notevoli after effects è davvero una piattaforma collaudata in rete trovate tantissimi plugin e scripts per migliorare l'esperienza all'interno del software la struttura a livelli si presta benissimo per la realizzazione di effettistica e di grafica animata l'integrazione con il motore di rendering di cinema 4d fa il resto fusion secondo me ha delle potenzialità enormi margini di crescita notevoli ma ad oggi è ancora limitato dalla mancanza di alcuni tool importantissimi e soprattutto la struttura del node editor si presta meno bene alla gestione di queste tipologie di progetti ma passiamo alla color correction e qui non c'è storia però dalla parte opposta da vinci resolve nasce come software di color e qualunque immagine che ha delle possibilità di essere corretta in color ecco che da vinci resolve è in grado di farlo o meglio ti mette gli strumenti giusti per poterlo fare premier pro da questo punto di vista ha delle limitazioni in più il tool di color correction si chiama lumetri color il suo motore deriva da un software acquisito anni fa da adobe il software si chiamava speed grade anche se le funzionalità sono tantissime e quindi comunque ha delle buone performance però vanta diversi punti in meno rispetto alla color page di da vinci resolve è come confrontare un maestro con un allievo ben promettente andiamo a vedere la post produzione audio il mixing quindi tutto quello che riguarda la gestione audio qui dobbiamo comparare fairlight con audition audition esiste da tanti anni ha delle performance altissime tantissimi effetti disponibili e tanti di questi lavorano egregiamente fairlight al pari di fusion ha delle potenzialità molto elevate soprattutto in termini di gestione di numero di tracce quindi dal punto di vista del mixing le differenze si assottigliano molto dal punto di vista della post produzione audition è ancora un po avanti ma queste valutazioni potrebbero cambiare da una versione all'altra diciamo poi che la differenza tra i due non è poi così evidente ma passiamo alla user experience e qui se vogliamo parlare di interfaccia ecco la customizzazione dei pannelli la possibilità di personalizzare i singoli spazi di lavoro la possibilità di sganciare i singoli pannelli e poterli trascinare in altri monitor a piacimento ingrandirli rimpicciolirli e ricollocarli dove voglio è un grosso punto a favore di adobe su risolvo delle grosse limitazioni quindi a seconda delle page posso sia allargare restringere o sganciare qualche pannello però non ho la massima flessibilità per poterlo fare il grosso vantaggio però di da vinci da vinci resolve è la perfetta integrazione delle page cioè io non devo switchare da un software all'altro come devo fare con adobe ma ho direttamente il link alle page e queste parlano tranquillamente tra loro su adobe devo continuamente passare da un software all'altro ci sono vari modi per farlo oltre ai classici file renderizzati posso utilizzare i dynamic link posso eventualmente sfruttare anche che i motion graphics template per legare tra loro effettistica e grafica animata creata su after effects per poterla poi importare e gestire all'interno di premiere i modi sono tantissimi ma però l'immediatezza che ti danno le singole page adobe non te la dà veniamo all'encoder e qui io sono un po di parte secondo me il vero davvero punto di forza di tutta la piattaforma video di adobe è il suo encoder cioè adobe media encoder è davvero uno strumento fantastico fantastico riesco ad esportare con il massimo grado di personalizzazione i vari codec presenti ho una gestione perfetta per quanto riguarda la coda di render per quanto riguarda le watch folder per quanto riguarda la creazione di predefiniti di assimilazione per proxy o per file di transcodifica perfetta gestione della creazione dei preset e delle buone performance in encoding da questo punto di vista la deliver page ha ancora tanto da imparare può sfruttare l'encoder di nvidia comunque le possibilità di personalizzazione e di gestione dei singoli codec rimangono inferiori rispetto ad adobe media encoder poi se vogliamo parlare di performance ecco qui il discorso un po cambia diciamo che da vinci resolve riesce a sfruttare meglio all'interno del suo flusso di lavoro la gpu rispetto a quello che può fare premiere diciamo che a parità di progetto l'ottimizzazione delle risorse della macchina è migliore su da vinci resolve rispetto a premiere pro after effects e tutti i software della suite video di adobe veniamo all'ultimo punto che forse per molti di voi è il più importante riguarda i costi e qui non c'è davvero storia a difesa di adobe per la verità c'è da dire che loro sono una software house quindi devono per forza monetizzare il loro software visto che è il loro business principale black magic ad altronde fa dell'hardware il suo core business il software è semplicemente un veicolo per vendere l'hardware e quindi è normale che le politiche commerciali siano diverse detto questo guardando in soldoni quello che costa un software rispetto a un altro da vinci è gratuito se vuoi la versione studio completa di tutto costa ad oggi circa 300 euro iva inclusa e soprattutto non dovrai pagare nessun aggiornamento quindi paghi una tantum e la licenza ad oggi ti permette di avere gli aggiornamenti gratuiti adobe invece se vuoi tutta la suite video dovrai pagare una cifra che è variabile dai 36 ai 60 euro mensili a seconda delle promozioni in corso c'è da dire che oltre alla suite video adobe ti mette a disposizione anche tutta la suite grafica fotografica e web è chiaro che se il video è il tuo business principale l'investimento nell'abbonamento adobe può essere facilmente ammortizzato detto questo tiriamo un attimo le somme e andiamo a vedere i risultati e vedete che sono molto molto simili quindi alla fine se stai puntando molto sulla color sul montaggio sulla post produzione audio stai facendo un'analisi dei costi e delle performance e in base a questo troverai indicazioni utili all'interno di questa piccola chiacchierata ti ripeto questa analisi è del tutto soggettiva quindi tu puoi avere delle indicazioni completamente diverse da quella che ho io magari ti invito a mettere in evidenza la tua opinione all'interno dei commenti di questo video magari può nascere anche un dibattito costruttivo in merito che può aiutare anche le persone che stanno facendo una scelta di questo tipo spero di non averti annoiato noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara Da Vinci Resolve